Ragazzi buongiorno, oggi ci troviamo a Campo Internazionale, siamo dentro un bungalow nel complesso Vista Golf. Io vi dico i nomi dei complessi così li potete cercare su internet e vedere l'esatta posizione. Questo bungalow lo affittiamo per lungo termine, quindi per viverci qualcuno di residente che lo prenda per tutto l'anno. Adesso vi faccio vedere com'è fatta questa proprietà. Iniziamo dalla terrazza privata, la terrazza ha la vista sulla piscina, il complesso è molto carino, sono 132 unità, sono due file, la prima che danno tutti sulla piscina e poi un'altra fila dietro. Quella fila dietro chiaramente non ha la vista. Entriamo nella saletta, è completamente ammobiliato, c'è l'aria condizionata, la cucina è equipaggiata da fornetto, microonda, fuochi elettrici, comunque una piastra grande, frigorifero con un piccolo congelatore, qui c'è il bagno con la doccia, la doccia è bella grande, comodissima, spaziosa, ma soprattutto il bagno è finestrato. E poi andiamo in camera da letto, anche questa è bella grande, spaziosa, troviamo un letto matrimoniale e l'armadio a muro, come molto spesso succede nelle case qui alle Canarie. E anche qui troviamo l'aria condizionata. Davanti alla camera c'è questa grande porta finestra, doppia, ve la faccio vedere, che dà a questa zona che diciamo è la zona lavanderia, perché qui troviamo la lavatrice, questa è la finestra del bagno e qui c'è un'altra zona che uno la può usare come meglio crede, una parte c'è il tetto, se vuole estendere anche dentro, e tutta questa zona qui insomma fa areggiare bene tutto il bungalow, il bungalow è molto luminoso, c'è tantissima aria, il complesso è molto tranquillo, la zona è campo internazionale, come dicevo prima, molto servito, perché siamo a due passi dal centro commerciale, farò due, e se volete fare i pensionati alle Canarie tutto l'anno, nulla di meglio di un bel bungalow campo internazionale. E spero che anche questo video vi sia piaciuto, se siete interessati a passare un lungo periodo alle Canarie, scrivetemi all'email che vi lascio qui sotto, come sempre nella descrizione, iscrivetevi al canale, al prossimo video, ciao ciao!